Bene, dunque, è chiaro, risolvere il problema di colpo non è possibile, questo ci rendiamo conto, però ecco, è importante che questa città faccia una progettazione su tutte quelle cose che nel tempo non siamo riusciti a fare, dalla più stupida, dall'ascensore di via Roma, per dirvi no, fino ad arrivare anche a questa questione dei motori, se fossero i motori, questa questione della piscina e degli altri impianti che purtroppo non funzionano, quindi l'assessore allo sport ha il suo da fare e su questo non c'è dubbio, però occorre la piena disponibilità dell'amministrazione, perché non vorrei che finisse come nel passato, non quattro anni fa, questi di tutti i bicicletti, prima, diciamo prima, quando appunto c'è da fare questo, no, lascia stare, che fai, niente, fai il marciapiede, futtate, no, questo no, noi dobbiamo fare le cose che servono, e quindi io credo che ora che arriva l'inverno una piscina al servizio della città sia indispensabile, poi che le nostre squadre non sono più quelle di una volta, Peppe Cassi, Docet, giocavamo in Serie A a pallacanestro, avevamo delle buone squadre di calcio che insomma si rimettono, giocavamo in Serie B a rugby, cioè ora siamo un po' calati, perché? Perché in verità mancano i finanziamenti, perché le squadre sono sempre state finanziate dai magnati oppure dai comuni, quindi i comuni non hanno più soldi, la situazione si è finita. E a proposito quindi di l'assessore, devo dire che l'altro giorno l'ho chiamato un po' in causa su questa storia simpatica che ho detto della festa anche negli altri quartieri, perché sì, Piano dei Platani è un bel quartiere e c'è tanta gente, ma il selvaggio è un bel quartiere e c'è tanta gente, ma quello a cui dobbiamo dare molta più attenzione secondo me è il quartiere centro, ma soprattutto quell'area diciamo che è un po' extra cittadina, diciamo dalla via Roma in poi. Ora noi abbiamo realizzato una intervista che non mandiamo in onda oggi, vi faccio vedere anche perché Teresa ha fatto l'intervista ora a ora, quindi la manderemo in onda domani. Però, ecco, ha fatto una simpatica intervista ad una mamma che, devo dire, si è anche abbastanza integrata nella nostra area, ha i bambini che vanno a scuola, lei non ha voluto farsi vedere, vabbè, questa è una cosa abbastanza normale, c'è sempre un po' di ritrosia in questi casi, però ecco, dicevo, questa cosa che riguarda anche i gusti etnici, no, allora mi dice che c'è un bel negozio che vende prodotti africani, bene, è una cosa che bisognerebbe fare, proviamo a creare delle giornate etniche, ora è estate, mettiamoci alla fine di via Roma e facciamo una giornata con i prodotti che arrivano da certi paesi, ecco, mamma wisdom. Allora, questa vorrebbe essere una cosa simpatica e anche per conoscere le varie realtà, che poi, naturalmente, ormai ci dobbiamo abituare, cioè la vita è fatta così, avremo bisogno sempre di più di integrazione, ma regolare, l'importante è che sia regolare, che sia un'integrazione che viene fuori dai permessi di soggiorno, dalla residenza e cose del genere. Quindi, prima di tutto, bisogna fare un po' di censimento nel centro storico, quello dopo la via Roma, e poi pensare a qualcosa per far crescere meglio l'integrazione. abbiamo detto nei giorni scorsi, grazie regia, che abbiamo ricevuto una lunga intervista da parte di Luigi Crispino, una cosa che dura 20-25 minuti, non la possiamo trasmettere tutti insieme, però affronto un argomento molto serio, che è quello proprio della compagnia aerea e cose del genere. Allora, io vi faccio sentire 4-5 minuti, proprio per capire qual è il senso che Luigi Crispino vuole, c'è il messaggio che vuole mandare ai siciliani, estrapolandolo da tutte le questioni in cui lui tira fuori i rapporti con altri, i magistratura e compagnia bella. Oggi credo che a noi serve molto, quasi quasi, come per la Russia e l'Ucraina, firmare un trattato di pace, un trattato di pace che possa preservare le nostre realtà, tipo l'aeroporto di Gomiso, senza inasprire ancora di più chi ha forza, chi ha coraggio, faccia qualche cosa. Allora, sentiamo Luigi Crispino.